ok attivo l'audio si si adesso dovremmo esserci ok adesso si sente perfetto si sentono sia in live che e tu mi senti anche su discord ok ci siamo a posto e nel frattempo gli altri sentono anche il tuo audio su disco dove ci siamo tutti proprio coordinati il microfono si si infatti chi sente me sentono la se ci sentiamo tutti ognuno ognuno per i fatti nostri ci sentiamo ci siamo ci siamo tanto tu ancora devi fare i free pool e beh io ho proprio proprio zero e allora io ti devo aspettare ti devo blessare dalla distanza ti devo blessare ti devo blessare dalla distanza perché io comunque oggi ho fatto il video quindi giustamente l'ho spesa qualcosina ora sono rimasto con le pezze però vabbè facci due free poi partiamo e infatti no vabbè fai facciamo due free poi si infatti poi casomai partiamo insieme così diciamo a posto e mica che spulo mentre se faccio altre cool poi spulo e poi diciamo e poi va a finire che devo bannare anche te oltre che monte e infatti e non va bene dai vai vai free 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 facciamo uno spam voglio lo spam di emotto sotto la mia chat però vai spam di emotto per chi è collegato da me dobbiamo fare dobbiamo fare il casino dobbiamo fare caricamenti infiniti inizia e vabbè ora giustamente questa situazione che abbiamo avuto dai però oro buono ora è buono ora è buono ora è buono ora è buono dai beh mi mancano 4x su 6 di panna quindi e infatti pullo perché c'è pesil fango l'ho trovata però pesil mi serve l'unico che non doveva uscire ecco a posto vabbè fai conto che è la free dai dai faccio l'altra meglio di niente chi c'è qua? se è la niente andiamo dai altra free c'è io ho talmente tanti monitor come ora attorno che non so dove guardare sono tipo tipo confuso ma no ragazzi iniziamo bene eh 35 di 7 aia aia comunque grazie per il follow brian ma penso sia comunque forse straniero quindi thanks for the follow brian aia quindi brutta sta cosa sto vedendo dove più d'altro manca fang e pesil in uno e irvine e 7 nell'altro eh io ormai vado lì dove c'ho pesil perché poi comunque irvine ce l'ho 7 forse l'ho trovata dalla free quindi ma poi neanche mi interessa più di tanto per cui penso che vado fondo lì dai voglio pesimi vai vai fanno una tu perché tanto io sono a 100 quindi almeno così bilanciamo un po' il karma bilanciamo un po' la situazione dai andiamo vai 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 madonna ogni volta quando si spendono ste gemme parte parte il magone parte dai dai beh abbiamo ancora tutto odin da fare ah quello toscano brian è andata bene eh eh con tutti sti nick diversi che avete su telegram ne avete uno su discord ne avete un altro è che vi riconosco a tutti ragazzi cioè maledetti mi fate confondere comunque benvenuto brian e grazie per il follow ovviamente va bene vabbè powerstone powerstone dai ricordiamoci che comunque spendere gemme su questi banner serve perché comunque fai powerstone eh c'è anche giugiu ciao giugiu ciao dago ciao jacarius jacari vabbè giustamente io ti chiamo jacarius perché ho letto jacarius ma jacari dai andiamo insieme 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 vai ci sei tre due uno anche se ci sarà un pochino di 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 lei penso ecco fericamento eterno ecco orb azzurra ecco orb oro a le vediamo che che va buona mono oro con la 15 di pesi il sguardo mancava no fango l'ho trovata fango l'ho trovata fango già l'avevo trovata ci siamo allora prima veniamo qua facciamo caricare l'orb orb dorata buona dai magari a pesi magari a pesi ora anche ma ok appena ci sei 3 2 1 magari e pesi che mi manca noti che non credo di pullarne comunque cioè inutile mi tengo per basce tento di trovare qualcosa con bocci e non si usano i ticket nelle battaglie o pesi il me lo sono chiamato e legato ed è uno e ora è una c'è intanto pesi l'ho trovato e con pesi il faccio le 100 ex io con pesi lo faccio le 100 che era che era la centesima che mi mancava a do mettere i comandi vocali veri ogni volta li scordo meno male che c'è lei a che me li ricorda meno male che c'è lei a che mi li ricordo ci siamo è la prossima l'orb allora aspettiamo l'orb azzurro nel suo tempo si sta attivando il bot di stream labs mannaia che proprio a centroschermo si è piazzato nessuno abbiamo abbiamo musculato ancora cioè senso io l'avevo trovata già stamattina la ld mentre invece ice l'ha trovata adesso ora stava caricando qua il bot di stream labs porca miseria niente basta non lo carico mi sono rotto ci siamo sono 1 2 e 3 per adesso nessuno sta avendo più culone siamo una ex a testa ld tu ma io già l'avevo trovata prima quindi siamo lì nella media penso anche perché comunque ho fatto più pull già quindi ecco monoro 35 di fang tra l'altro c'è più mi sta sulle palle un personaggio più un oro 15 di pezzi sul monoro ho vinto con la 35 c'è proprio ridicoli anche ok ci siamo ordo vediamo cosa spunta per l'altro posso fare le ultime ordo dorata so fare le ultime tre compresa questa quindi dove una roma le leggende dai ci sono ci siamo 1 2 e 3 allora ordo dorata è qualcosa di interessante almeno magari un doppione di pezzi il doppione di pezzi il oddio cambio subito è uno fang porca miseria l'ho confusa mi sembrava pezzi ld di nuovo ecco mettere in una donna mia e tra l'altro nemmeno di giamo a sacco mamma mia terribile che brutta cosa mi ricorda ultimo che madonna poi ci vorrebbe l'emoticon infarto natale quella di discord però ho trovato un'altra led ora ora questa la devo conservare perché sa com'è non sa mai allora oddio ho lo zaino pieno non ci credo dopo effettivamente ho pullato assai allora faccio un attimo di spazio vado aspetta allora dobbiamo tutte ste cagate che poi avevo fatto pulizia quindi togliamo anche questi teoricamente si mi converrebbe pullare sugli altri banner avendo ld ma sinceramente gli altri banner c'è soltanto bash ma ci vado di ticket perché non mi interessa quindi preferisco avere tutto subito per non ridurmi all'ultimo e pullare le gemme magari su un banner che non mi interessa qui ne approfitto perché comunque c'è pesil c'è anche fang che in realtà manca in teoria che ora ormai ho completato da tutte le armi che ho trovato quindi ok ci siamo fatto spazio quindi mi conviene più pullare quale gemme ok io ci sono per cui ormai sarà anche a 160 180 sì a parte quello ma comunque ci avrei pullato comunque perché perché comunque c'erano pesi che mi mancava la ex fang mi mancava tutta quindi allora vediamo sta orb ecco orbo azzurro madonna ci sei fai solo 1 2 e 3 che giugiu che si triggera ma lui è ricco giugiu non spende nulla giugiu è è culo rotto ma con un altro monoro quasi no vabbè 15 e 35 io pesi il 35 di pesi le 15 di noctis e io posso fare l'ultimo per ora poi bisogna farmare poi bisogna farmare uovo dorato tu vediamo io eh orb azzurro bene 1 2 e 3 vediamo madonna che brutta ste pull madonna poi con l'orbo azzurro già uno mentalmente parte bene monoro 15 di noctis io concludo così per ora vendo più che altro doppio di noctis che belle pull ma non c'è da piangere c'è da piangere signori c'è da piangere a se iniziamo così c'è da piangere qua qua puoi andare se vuoi perché tanto io non posso pullare più con le gemme ticket non ne utilizzerò quindi adesso dobbiamo concentrarci solo per farla trovare prima del pd per ice c'è non non c'è nient'altro da fare dobbiamo vai 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 dobbiamo dobbiamo pregare dobbiamo pregare però orbo dorata è buona dai orbo dorata può sempre cambiare può sempre variare 35 dai pezzi mi mancava buona che pezzi le mancava a tutti c'è assurdo non mi è mai uscito tutti i banner passati non mi è mai uscito e anche io quando ero uscito con chi era con vain non ci ho pullato perché già ce l'avevo quando è uscito dalle altre parti non l'ho pullato proprio perché non mi interessava c'è proprio assurdo grande è l'essare che l'ha trovata gg che poi tra l'altro oggi pomeriggio volevo farmare le gemme perché così poteva avere qualcosa in più da farmare però c'ho stato c'ho avuto il computer che si aggiornava da solo maltempo il gioco che non funziona non collega non fa cioè boh l'orb spigole migliore di quella dorata oddio mont tu stai rischiando comunque lo sai vero che stai rischiando vabbè ma tanto loro ormai no sono tranquilli loro sono sono freschi poi mont che non ha speso nulla praticamente cioè mont mont si è fatto la passeggiatina oggi col banner si è fatto proprio così la passeggiatina dice ora ma così me ne vado e pullo dai buono 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 e infatti bagniamo mont bagniamolo e infatti fallo un bless tipo anzi doveva farlo prima però ho speso 10k cioè attenzione cioè ha speso 10k capito quindi è provato il ragazzo infatti ora lo bagniamo madonna mia è la terza va bene noctis lo abbiamo capito che però c'è sono 50k devi e sei a quanto sei a 220 anche tu eh sì 50 quindi sì 50 perché non era free quindi sì 50 dobbiamo 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 cambiare qua questa cosa forza su 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 dai 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 o mamma su dobbiamo su sulle mani come per per la sfera genkidama che comunque riuscire a spendere anche meno dei 75k sarebbe già un successo cioè meno del pt normale sarebbe già un successone ma voglio però andiamo avanti a monoro madonna mia poi 15 di fang a un video come con dai orbo dorato dai orbo dorato è buono povero monto guarda che povero 190k si proprio non ha speso nulla per dire la formula per me il banner è chiuso ma che è chiuso ancora non è chiuso guardala guardala uuuuh eccola vabbè ti è andata di stralusso quanto hai fatto 240 ah 260 ma oddio una donazione chi è no non si vede si è coperto il coso no ah c'è il mio scritto eh no vabbè questo sono io che dovevo sistemare le finestre dai vabbè gg al 200 260 vabbè dai ottimo ottimo eh boh prendo il libro lo devo fare eh vabbè si effettivamente è inutile che spendi è inutile che vai ai 300 no anche perché ho trovato il resto vabbè libro più 60 così di mancia libro con 60 di mancia dai buono vabbè dai pensavo già peggio beh dai 260 ottimo risultato ottimissimo risultato io sicuramente andrò di più quindi già mi preparo mentalmente a formare le gemme di di odino andrò andrò a spendere subito così ah beh dai è un po' di ottimismo dai si vabbè però porca misera giusto giusto mi escono quelle cioè 108 mi è uscita con 3 ticket che non mi interessava e ora l'unico che mi interessa non mi esce cioè stiamo scherzando bah come sta andando eeeh ah si ha trovato io no io mi sono dovuto fermare perché non ho potuto farmare le gemme in tempo ora magari continuo se il gioco se il gioco mi permette continuo a farmare e man mano pullo mentre farmo in live quindi quindi penso penso che continuo cioè cambio la la transizione e e ovviamente continuo per chi vuole restare ovviamente perché farmeremo cioè farmerò odino e poi e poi successivamente pullo quindi io penso di continuare tra l'altro 31 spettatori mamma mia siamo un casino oggi eh quando si pulla con le gemme degli altri vero vi divertite mannaggia a voi mannaggia a voi oh però dai oh è andata è andata benissimo da rifare da rifare per te così ti porto ti porto fortuna prossima quando si hardin esatto la stessa cosa abbiamo detto appena esce hardin rifacciamo la stessa cosa easy subito stessa progetta rifà scorta perché se no è per fuoco io io devo sperare di poter far scorta perché se va a finire che tutte le gemme di odino le butto qui sono consumate neanche ci arrivo alpidi devo aspettare gli altri eventi per per continuare a pullare quindi madonna monte ti sto bannando appena dici di nuovo porta fortuna di nuovo a me ti banno vabbè dai odino 40k c'è solo e infatti la cosa buona è quella 55 li ho spesi prima quindi sono quasi alpidi volendo quasi perché poi comunque mi mancherebbe qualcosina però già se non la trovo se non la trovo dentro le gemme già mi viene mi viene un attimo un coccolone mi rimango là un attimo perplesso spaisato va bene ce l'abbiamo fatta l'importante l'importante è questo speriamo di farcelo anche io fossi in te mi fermerei quella madonna niente monte oggi è scherzoso oggi monte oggi è divertito giustamente adesso non lo farò e vabbè ci sta una volta ogni tanto che scula una volta ogni tanto un po' scula sempre alla fine non hai il pt matematica e chi te l'ha detto tu tranquillo vabbè ce l'abbiamo fatta vabbè a questo punto io ti ringrazio per la disponibilità ovviamente hardin c'è l'atto 2 con hardin con hardin easy così sperando di poter accumulare qualcosina prima e di poter avere qualche informazione così sotto banco magari vederlo già prima così uno sa quando iniziare a risparmiare va bene io stacco e infatti vediamo se funziona più che altro perché poi il problema è quello che così metto a farmare un pochino e poi pullo va bene grazie grazie ice ovviamente goditi la burst fino a quando non la prenderò anche io e ovviamente facci sapere poi su discord cosa ne pensi perché c'è una certa persona che ancora sta aspettando le scuse però vabbè lasciamo perdere ma io non ho capito di cosa dovrei scusarmi non lo so non lo so neanche io a dire la verità non lo so neanche io va bene ok ce l'abbiamo fatta grazie a tutti ovviamente per essere stati e per aver dato supporto ovviamente io faccio una piccola pausa per chi per chi non lo sapesse faccio una piccola pausa e poi ritorno per farmare Odino e pullare quindi chi vuole restare è il benvenuto ci becchiamo tra poco